Un originale documentario sul lupo e sul suo impatto con l'ambiente alpino, dove l'uomo e l'economia montana si incontrano e a volte si scontrano con questo grande predatore. Uomini e lupi sulle Alpi in 10 domande, domenica 18 marzo alle 21 in esclusiva su Caccia, canale 235. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS